Buongiorno a tutti, primo video della domenica, allora innanzitutto vi ricordo come sempre l'appuntamento col Gigione lunedì sera, argomento sarà il coronavirus perché tanto il campionato ce l'hanno fermato, praticamente oggi pomeriggio si gioca una partita, anzi una si è giocata e poi se ne giocherà un'altra, quindi cosa vogliamo parlare del campionato, parleremo del coronavirus, così almeno ci sarà un bel dibattito, quindi lunedì sera vi aspetto con la diretta del Gigione, a partire dalle 21.30-22, cercherò di iniziare alle 21.30, farò il possibile, però sapete benissimo che poi iniziamo sempre alle 22.00. Detto questo, due notiziole, anzi più che due notiziole, due constatazioni, una riguarda l'Australia e quello che è successo e uno riguarda quello che purtroppo a tutti prima o poi succede. Ma veniamo alla questione australiana. L'Australia si sta suicidando, gli incendi saranno la sua Chernobyl, punto di domanda. Sul New York Times ormai di più di un mese fa, forse anche due, lo scrittore Richard Flanagan sostiene che l'Australia si stia suicidando e che si tratti di un suicidio climatico in grado di mettere in mostra la scarsa caratura morale della leadership politica del paese. Quattro mesi di incendi devastanti, un'area grande quanto il Belgio incenerita, la grande barriera corallina agonizzante, le foreste pluviali in fiamme, quelle di alghe kelpi in gran parte svanite, la fauna sterminata. L'Australia si sta suicidando, è il grido di dolore dello scrittore Richard Flanagan sul New York Times ed è un suicidio climatico guidato da una classe politica irresponsabile, la cui risposta a questa crisi senza precedenti non è stata difendere il paese ma difendere l'industria del carbone, grande sovvenzionatrice di entrambi i maggiori partiti. Bisogna dunque capire la politica e l'economia australiane per capire questo suicidio. Dal 1996, scrive Flanagan, i governi conservatori si impegnano a non rispettare gli accordi sul clima, perché l'Australia è il massimo esportatore mondiale di carbone e gas e anche uno dei peggiori inquinatori pro capite è il 57esimo paese su 57 in una recente classifica sulla lotta al cambiamento climatico. Anziché avviare un dibattito su come mantenere il benessere economico senza suicidarsi, la classe dirigente si è impegnata nel negazionismo climatico. Due nomi chiave, uno ignoto, Cleve Palmer, oligarca delle miniere del carbone che ha fondato un partito fantoccio con l'unico scopo di tenere lontani dal potere i laburisti che proponevano interventi ecologisti limitati ma concreti. L'altro è stranoto, Rupert Murdoch, il moloch del media planetari che nel suo paese controlla il 58% della stampa, tutta negazionista climatica. In questo quadro non poteva che emergere un leader vergognoso come Scott Morrison, una caricatura di Trump mal riuscita, uno che si è fatto un nome come ministro dell'immigrazione, perfezionando la crudeltà di una politica che interna i profughi in campi infernali nelle isole del Pacifico e sembra indifferente alla sofferenza umana. Scrive il romanziere con una prosa indignata al cui contenuto sarà opinabile ma che l'ottusità del primo ministro sembra fargli tutto per motivare. A Natale, mentre il paese bruciava, ha annunciato che se ne andava in vacanza alle Hawaii. Tornato precipitosamente, si è affannato a minimizzare la tragedia, a dire che era il solito incendio che capita tutti gli anni e che gli australiani sono abituati ad affrontare catastrofi naturali, inondazioni, guerre mondiali, malattie e siccità. Ma forse gli australiani hanno smesso di bersi queste boiate patriottiche. La patria hanno cominciato a difenderla giovedì quando Morrison, in visita a una città in fiamme, ha ignorato una donna che gli chiedeva aiuto e una folla indignata l'ha costretto a scappare. Morrison può avere una macchina della propaganda massiccia nella stampa di Marlott ed è senza opposizione, ma la sua autorità morale sbiadisce di ora in ora, scrive Flanagan, che paragona l'Australia di oggi all'unione sovietica degli anni Ottanta, quando l'apparato dominante era onnipotente ma perdeva la fondamentale autorità morale per governare. Allo stesso modo l'establishment australiano, reso folle dalle sue stesse fantasie, si trova davanti a una realtà monstrosa che non ha né la capacità né la volontà di affrontare. Michael Gorbaciov, ricorda Flanagan, scrisse nel 2006 che il collasso dell'Ursa era cominciato con il disastro di Chernobyl, che la tragedia australiana sia la Chernobyl della crisi climatica, appunto di domanda. Bene, dopo questa domanda lascio a voi i commenti su questa situazione australiana. Naturalmente uno può dirmi Gigi a noi che cavolo ce ne frega dell'Australia, sono a 20.000 chilometri, no 20.000, 200.000, non lo so, tra l'Italia e l'Australia, non ho guardato, io e la geografia non è che andiamo tanto d'accordo, però comunque è dall'altra parte del mondo, 12 ore di fuso orario per intenderci, quindi uno può dirmi che cavolo ce ne frea, abbiamo 3.000 problemi noi, tra cui il coronavirus di cui parleremo lunedì, ve lo ricordo sempre nella diretta del Gigione. Detto questo andiamo ad un altro argomento che riguarda purtroppo ognuno di noi, perché prima o poi, si spera sempre poi, ma succede. Quindi andiamo a leggere. La perdita di una persona cara fa male, ma lei resta con noi. La perdita di una persona cara è davvero una cosa difficile da affrontare, non è questione di parentela, ma di affetti, e questa persona cara potrebbe anche essere un'amicizia o un altro con cui avevamo a che fare. è fondamentale, per elaborare la perdita di una persona cara, ricordarci che al mondo non c'è niente di eterno, nemmeno la vita delle persone che credevamo immortali. Quando avviene la perdita di una persona cara, c'è chi si dispera perché crede che non potrà mai più vederla, e questo fa ovviamente molto male. Ma naturalmente ci sono tante altre persone che hanno una tutt'altra idea a riguardo. Infatti c'è chi crede con grande convinzione che sebbene non sia più possibile vedere la persona e parlarla in maniera fisica, c'è la possibilità di percepirla in un altro modo, di avere a che fare con lei attraverso un altro dei nostri sensi. Ci sono delle cose che appaiono paranormali e che facciamo fatica ad accettare, ed in alcuni casi possono essere davvero soltanto proiezioni della nostra mente, ma altrettanto spesso sono veri modi di avere a che fare con noi delle persone che se ne sono andate. Bisogna aprire la mente e tenere in considerazione che la perdita di una persona cara non vuol dire addio a questa persona, ma semplicemente non averci più a che fare fisicamente. Infatti il legame instaurato con una persona con cui magari c'era anche un legame profondo di parentela non finisce mai, nemmeno dopo la morte in alcuni casi si rafforza. C'è chi sostiene che smettere di vivere non significa morire ma rinascere, e questo corso lo deve affrontare anche chi ha perso un parente, un amico o un'altra persona importante. Il legame con una persona sarà davvero eterno soltanto se capiremo di poterla amare allo stesso modo ma in un'altra dimensione. Bene, detto questo io vi lascio riflettere su questi due argomentini che sono abbastanza tosti diciamo, sia la questione australiana sia soprattutto che questo è più personale per noi, per me per di più è sfondare una porta aperta, visto che ormai sono tutti lassù e qua ho gli amici ma nel parentale c'è poco, c'è rimasto poco niente. Quindi detto questo io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!